volevo volevo fare un'altra esperienza calcistica e di vita che potesse arricchirmi e devo dire che ad oggi tutti i motivi per i quali ho scelto di fare questo tipo di percorso sono stati appagati ho vissuto nove mesi in una città stupenda a una città che mi ha accolto con tanto affetto e tanta tanto calore umano con alphonse ma anche con con si bua conto ma abbiamo creato proprio un bel gruppo di lavoro c'è c'è molta amicizia c'è tanta stima e quella secondo me la vera e la vera vittoria ecco di di noi come come portieri secondo me ren è una squadra molto pericolosa molto pericolosa perché io mi ricordo a ren e mi ricordo anche in casa anche a parigi abbiamo vinto 3 a 1 e 4 a 1 ma sono state partite molto complicate e credo che che ren sia una squadra veramente ben organizzata con un'ottima fase offensiva ho visto il lilla ho visto il lione e ho visto il ren anche ma anche lo strasburgo come come squadra sono quattro squadre che anche nella liga italiana secondo me sarebbero protagoniste nella finale c'è sicuramente in questo caso una favorita che siamo noi però se giocando una partita di campionato potrebbe essere 80 per cento eventi in una finale diventa 60 40 65 35 ecco perché in una finale in una partita singola può capitare veramente di tutto può capitare un'espulsione può capitare un infortunio può capitare un palo e quindi dobbiamo stare molto attenti abonate al canale di youtube di paris saint germain abonato a la chaine youtube di paris saint germain subscribe to the paris saint germain channel iscrivci nel canale di youtube paris saint germain ciao